Sono moltissime le start-up ed i founder che prendono in considerazione l'idea di unirsi ad acceleratori all'inizio della loro avventura. Nel video di oggi andiamo a spiegare cosa sono effettivamente gli acceleratori, se vale la pena entrare a farne parte e come funzionano nel dettaglio. Nel video di oggi vi dirò se vale la pena entrare a far parte di acceleratori, vi darò un po' della mia esperienza personale, andremo a capire come funzionano esattamente e perché così tanti founder e start-up, alle prime armi in particolare, considerano di entrare a farne parte. Partiamo dallo scopo di un acceleratore. Un acceleratore vuole identificare delle start-up di potenziale successo, investirci tempo, denaro, risorse e eventualmente trarne i vantaggi se e quando questa start-up dovesse riuscire a essere venduta o a quotarsi in borsa. Ovviamente esiste un acceleratore di ogni tipo, razza e colore, ma in questo video cercherò di darvi quelli che sono gli elementi più generali, poi sta a voi confrontarli con l'acceleratore di cui vi state interessando al momento. Come funziona esattamente un acceleratore? Beh, sicuramente il primo passo è quello di fare la vostra applicazione, la vostra candidatura. Se verrete accettati, entrerete a far parte di un programma che di solito ha una durata definita dai 3 ai 6 mesi e durante questo programma riceverete mentorship, riceverete consulenza, riceverete anche supporto tramite network di altre persone che fanno parte dell'acceleratore e soprattutto riceverete anche un supporto monetario. Questo di solito è basato su un valore fisso, quindi tutte le aziende che fanno parte dell'acceleratore ricevono, non lo so, 50.000 euro per una valutazione di un milione oppure il doppio, il triplo, insomma ogni acceleratore ha i suoi numeri e chiede delle cose diverse in base ai requisiti che vengono messi e al tipo di aziende che cercano di attrarre. Chiaramente un altro aspetto importante dell'acceleratore è quello di aiutarvi a continuare a raccogliere fondi una volta finito il vostro percorso, quindi uno dei focus principali sarà proprio attorno all'idea di come riusciamo a raccogliere fondi, mettervi in contatto con investitori che fanno parte del network dell'acceleratore, perché magari ci hanno lavorato insieme in passato, perché hanno degli accordi commerciali e questo chiaramente è uno degli altri motivi principali per cui tante persone cercano di entrare a far parte di un acceleratore. Prima di entrare nel dettaglio ci tengo anche a fare un commento sulla differenza tra incubatore e acceleratore, spesso questi due termini vengono usati in maniera interscambiabile, però in maniera anche errata, perché un incubatore è sicuramente un parente, ma magari un parente un po' alla lontana di un acceleratore, ha una durata tendenzialmente indefinita, quindi fate parte di un incubatore potenzialmente anche a vita, ricevete magari uno spazio dove lavorare, ricevete sicuramente un supporto da avarimento di vari coach, però di solito non c'è neanche lo scambio di denaro, quindi non c'è un investimento da parte dell'incubatore, verso di voi, è una cosa molto più tranquilla, da molti punti di vista, e di solito sono anche supportati più da enti pubblici, quindi dallo Stato che cerca di sovvenzionare l'innovazione. Un modo interessante di capire se vale la pena entrare a far parte di un acceleratore è quello di studiare una delle più grandi storie di successo che ci sono state, anche se sappiamo che chiaramente non sarà valido per tutti gli acceleratori che avete a disposizione. L'acceleratore più famoso al mondo, direi senza dubbio, è YC, Y Combinator, che si trova in Silicon Valley, esiste dal 2005, e dal 2005 a oggi ha accelerato più di 3.000 aziende, quindi sicuramente un numero notevole, aziende che hanno una valutazione totale al giorno d'oggi maggiore di 400 miliardi di dollari, quindi appunto sicuramente di tutto rispetto. Fanno parte di queste aziende anche Airbnb, Twitch, Stripe, Coinbase, quindi una lista assolutamente notevole, e perché YC funziona così bene? Funziona così bene perché, a parte essere stati comunque tra i primi, tra l'altro hanno raccolto i loro fondi iniziali da Sequoia Capital, abbiamo fatto un video speciale dedicato a loro e perché sono l'azienda che è un po' dietro i social media, tra virgolette, quindi se volete darci un'occhiata lo trovate o qui o qui nelle schede, ma in generale sono stati tra i primi e sono riusciti a creare un fortissimo effetto di network. Uno dei vantaggi principali di un acceleratore, come nel caso di YC, è quello di avere tante aziende che ormai si sono diplomate dall'acceleratore ma continuano a far parte dell'ecosistema, sono all'interno di un gruppo Slack o Teams o di un forum dedicato, insomma ogni acceleratore ha il suo sistema. C'è sicuramente anche un network di investitori, YC vi presenta al mondo tramite il famoso Demo Day in cui voi presentate appunto i progressi della vostra azienda durante l'acceleratore, presentate i vostri numeri, quello che fate, e lo fate di fronte a quella che forse è la platea più ampia di potenziali investitori che ci sia al mondo, sia fisicamente che nei meeting Zoom, insomma. Quindi ci sono centinaia e centinaia di potenziali investitori che vi ascoltano solo perché fate parte di YC. Una storia di successo interessante è quella di Stripe all'interno di YC, per l'appunto, visto che quando sono entrati a farne parte si sono resi conto di avere un prodotto che era potenzialmente molto interessante anche per tutte le altre aziende che hanno fatto parte di YC prima. Moltissime di quelle aziende potevano beneficiare di un metodo per ricevere pagamenti che fosse più smart, più intuitivo, e quindi una grande parte dei clienti iniziali di Stripe sono arrivati proprio da lì e sarebbe stato molto più difficile acquisirli se non fossero stati parte di questo network appunto creato da YCombinator. Sicuramente le startup non sono sempre un ottimo cliente da avere perché possono pagare poco e hanno un alto tasso di fallimento. Se non sbaglio anche le aziende di YC hanno un tasso di fallimento superiore al 20%, quindi non è che entrare vi garantisce di essere al top e di non fallire mai, però ecco vi può aiutare nel caso in cui possiate beneficiare di questi effetti network per l'appunto. Quindi entriamo nel cuore del video. Vale la pena entrare a far parte di un acceleratore? Quando? Come? Perché? Tendenzialmente mi sento di consigliarlo a persone che sono più alle prime armi, quindi se non avete esperienza come founder di startup e o come un membro fondamentale di una startup, specie nei primi anni di vita, perché è molto diverso essere un executive in una startup che magari si deve cotare in borsa rispetto a una persona che entra a far parte di un team di 4-5 persone e che lavora con i founder direttamente per gestire la parte di raccolta fondi, per esempio. Se non avete esperienza con questi aspetti della vita di startup, con la parte da 0 a 1, come si suol dire, in quel caso assolutamente l'acceleratore vi può accelerare, letteralmente, può darvi una spinta rapida, vi aiuta con la parte burocratica, vi mette in contatto con tanti mentori, con tanti coach che possono aiutarvi a capire le parti fondamentali della loro area di competenza, quindi se magari all'interno del vostro team di founder manca qualcuno con esperienza in sales o marketing o tech, difficile, senza un founder tech, però capita, magari riuscite a trovare quel mentore all'interno del network che vi dà comunque una lezione su quello che vi basta sapere per arrivare fino al punto in cui poi riuscirete ad assumere qualcuno e anche al punto per cui siete in grado di poter capire quali sono le persone giuste da assumere, quindi questo assolutamente è importante e è un grande vantaggio. L'altro vantaggio è che entrate a contatto con tante persone interessanti che sono founder come voi. Il network che si crea e anche il feedback che si crea tra i vari founder è tendenzialmente molto interessante. Anche lì dipende dalla qualità del programma. Più la qualità è alta, più i vostri compagni founder saranno bravi, più vantaggio avrete da questo. Secondo me è un po' questo il discorso che fa la differenza negli acceleratori. Più sono rinomati, più tendenzialmente vale la pena entrare a farne parte. È una di quelle industrie dove più si diventa grandi, più si migliora il tipo di valore che riesce a dare agli utenti, almeno in media. Poi chiaramente ci sono delle eccezioni, c'è anche chi dice che per esempio la qualità di WebCombinator sia un po' calata perché adesso magari accettano più di 400 aziende che se non sbaglio è quello che è successo l'ultima volta. Sicuramente è vero che magari c'è un'attenzione diversa, diventa più una fabbrica, però allo stesso tempo sono 400 aziende filtrate da 16.000 e quindi tendenzialmente c'è un alto livello. Se è grande vuol dire che ci sono anche tanti mentori, quindi se siete bravi a districarvi riuscirete anche a avere i migliori, magari quelli che vi servono di più e che sono anche più richiesti a volte. Quindi se siete novizi, se vi serve una mano anche con la parte burocratica, per esempio quelli che ho fatto io sono stati di grande aiuto per tutta la parte legislativa. Se magari siete in un paese che non è il vostro, conoscete ancora di meno, la parte legale vi può essere molto utile. Però insomma ricordate che state dando via una parte delle vostre azioni, quello che più di valore c'è all'inizio di una start-up. Pensateci bene, guardate anche qual è la percentuale che si prendono gli acceleratori. Difficilmente, secondo me, vale la pena entrare in un acceleratore che vi chieda più del 10% della vostra azienda, a meno che non ci sia una veramente sinergia particolarmente buona. Perché? Perché a quel punto diventate molto meno attrattivi anche per investitori a seguire. Immaginate un investitore che nel serie 6 si rende conto che i founder hanno già dato via il 40% dell'azienda, sarà molto meno incentivata a investire. Perché? Perché avrete meno spazio per raccogliere soldi dopo il serie 6, perché chiaramente i founder poi non vogliono essere in minoranza per quanto riguarda le share, e perché meno azioni hanno i founder, meno saranno incentivati a rendere l'azienda un successo. Da questo punto di vista bisogna essere cauti, però il fondamento del mondo delle start-up è anche che è meglio avere una fetta, diciamo, in percentuale più piccola, però di una torta enorme, piuttosto che non tutta la torta però che sia grande come un chicco di riso. Quindi sicuramente prima o poi è importante dare parte delle proprie equity per ingrandire questa torta, però fatelo con parsimonia e con attenzione. Una cosa interessante, un esercizio mentale che vi consiglio di fare è riuscirei a raggiungere lo stesso livello di valore aggiunto usando quella quantità di equity su magari impiegati che assumo, a cui do già più azioni rispetto al normale, o magari altri mentori che però vado a individuare singolarmente. Se la risposta è sì, allora a quel punto penserei, prenderei in considerazione quella direzione lì. E poi rimane il fatto che se siete già founder con esperienza, se avete già avuto una start-up di successo, ecco, veramente è molto raro che un programma di accelerazione possa esservi utile. Magari i vostri co-founder invece sono le prime armi, in quel caso può essere anche un modo per velocizzare il loro processo di apprendimento, però sta a voi vedere se vale la pena. Io vi ho dato un po' quello che è il framework decisionale, che secondo me è quello migliore da seguire, da adottare. Ultima parte di questo video è per capire meglio il business model degli acceleratori, quindi come fanno soldi. Sicuramente il modo principale è quello di rivendere le azioni che hanno all'interno delle start-up, lo fanno quando l'azienda viene acquisita, quando l'azienda si quota in borsa, ma visto che investono così presto all'interno del ciclo di vita di un'azienda, al giorno d'oggi riescono a farlo anche quando ci sono i cosiddetti round secondari. Quindi magari un'azienda che sta facendo il Series B ha degli investitori particolarmente interessati a aumentare la propria quota, un acceleratore può decidere di rivendere a loro, se permesso chiaramente dalla start-up, le quote, questo gli permetterà di avere liquidità a prima e di chiaramente diminuire anche il rischio. Questo direi che è il modo principale per fare soldi per un acceleratore, vuol dire che hanno scelto le aziende giuste, che hanno aggiunto il valore necessario per aiutarvi a crescere e quindi assolutamente da mettere in prima posizione. Poi in ordine magari non di importanza, però sicuramente c'è la possibilità di vendere servizi aggiuntivi. La stessa acceleratore che vi dà accesso a Mentory può dirvi ok, se volete altre cinque ore di coaching, se volete altre due ore di magari discorso con i nostri legali, magari vi chiedono appunto una fee. Questo, diciamo, chiaramente è un business model un po' meno scalabile, di nuovo anche perché i vostri clienti, i loro clienti, non hanno tantissimo budget da spendere su queste cose, però è da tenere in considerazione. Un'altra cosa che fanno è quella di fare delle partnership con grandi aziende. Se io sono un famoso acceleratore e ho tante aziende che entrano a far parte del mio ecosistema, posso andare da Samsung e dirgli guarda ci sono queste aziende che possano aiutarti a creare dei telefonini migliori. E quindi poi Samsung chiaramente avrà l'opzione di lavorare con queste startup, di acquistarle, di acquisirle. Come potete capire, questo ha un grande valore potenziale per grandi aziende. Ogni tanto ci sono questi tipi di partnership. A volte addirittura gli acceleratori vengono fondati da aziende o da enti pubblici o vengono sponsorizzati. Chiaramente in questo caso l'interesse sul fare revenue e sul raccogliere fondi è leggermente minore perché l'interesse è chiaro, diretto, come dire, palese. È quello di trovare aziende che possano avere una forte sinergia con l'azienda madre e che poi un giorno possano lavorare con loro, essere acquistate e aiutare a velocizzare l'innovazione di questa azienda. Appunto pensiamo a Samsung che magari acquisisce una startup che gli può garantire una nuova tecnologia per creare display per i telefoni. Un altro metodo di revenue è quello di offrire una partnership ai fondi di investimento. Quindi magari un fondo di capitale privato va da un acceleratore e gli dici guarda se tu mi dai la prerogativa, mi dai la precedenza per gli investimenti sulle tue startup, poi ti do una percentuale oppure ti do un valore fisso, anche qui varia. Però ecco magari possono dire guarda tutte le startup che vengono da me passeranno prima da te. Perché se tu vuoi dargli questa quantità di soldi a questo valore allora io a quel punto poi mi prenderò una fee di 10.000 euro o 20.000 euro perché sono quello che ha creato queste aziende, che le ha accelerate eccetera eccetera. Poi l'ultimo aspetto importante da nominare è quello dei fondi pubblici. Quindi si sono sicuramente dei bandi, dei fondi messi a disposizione dallo Stato, dai vari ministeri per incentivare un certo tipo di innovazione e questi fondi possono essere anche collezionati da acceleratori per l'appunto. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se volete ulteriori risorse riguardo al mondo delle startup assolutamente iscrivetevi al canale, le solite cose da youtuber, da mettere mi piace eccetera, ma vi invito anche a andare sul sito dist.io o io se siete più internazionali. Perché? Perché su questo sito adesso ci sono vari calcolatori che possono esservi utili per migliorare il vostro business. Quindi ce n'è uno che vi permette di calcolare quanto vale la vostra equity, le vostre azioni nell'azienda. È ottimo sia per voi che per i vostri impiegati se volete mostrare un po' il valore delle loro stock option e potete mettere una potenziale valutazione finale e insomma ci sono un po' di cose con cui potete giocare per vedere i numeri. Un altro calcolatore vi fa una sorta di quiz per aiutarvi a capire quale dovrebbe essere il vostro costo per acquisizione e soprattutto in quanto tempo dovreste essere in grado di ripagarlo. Quindi è un quiz per fare l'assessment del vostro CAC Payback Time se vogliamo cominciare a usare un po' di termini inglesi. E queste feature sono ancora in beta quindi accetto assolutamente consigli, suggerimenti. Spero che insomma un giorno saranno uno strumento utile e importante per tutti i founder italiani che cercano supporto in questo viaggio difficile e sullo stesso dist.io ci saranno vari blog, articoli, approfondimenti che partono da questi video e vanno magari un po' più a fondo. Quindi vi invito assolutamente a andarlo a visitare noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!